Alex. Ciao. Che ci fai qui? C'è una cosa che cerco di dirti da un po'. Ah, che cosa? Tamara, io credo di essermi... Di esserti? Di essermi... Stufato. Di questa storia della fotocopiatrice. Ma ora è tardi per dirtelo, no? È decisamente tardi. Commettiamo un errore quando aspettiamo troppo. Senti, vesti di bai bai anche tu. O quando non abbiamo il coraggio di ascoltare i nostri sentimenti. Grazie. 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 Grazie a tutti